ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video non siamo impazziti ulteriormente oggi abbiamo ospite il pinguino perché perché parliamo di storie del pinguino che torno a nuotare di ton michel ovviamente sono due pinguini diversi perché qui siamo in sud america questo qua invece arriva da portogallo però insomma saranno stati parenti qualche maniera no cugini primi allora è un libretti no molto piccino picciò pubblicato dalla garzanti costa 14 euro e 90 mica piccino però sono più di 200 pagine sei sicura di quello che sono 204 più di 200 pagine che hai detto così però dovessero essere 250 rispetto ai libri che leggi tu è lungo dai battutina guarda sguardo assassino vuole essere picchiato comunque niente l'abbiamo letto insieme ovviamente come potete immaginare dal fatto che questo video si chiama lettore cioè nell'inizio lettore di coppia quindi cosa poteva essere cosa stai facendo allora di cosa parla questa è la storia vera di questo tizio che è un professore che da giovane è stato mandato lui è inglese è stato mandato appunto in sud america per insegnare in una scuola in una specie di collegio in realtà ha scelto lui di andare si è offerto pinolo proprio potevano dirgli no ci fai schifo non ti vogliamo cioè quella cosa si è offerta è andata sì ho capito ma ha comunque dovuto senti eh non è che dobbiamo raccontare tutto il libro ti patico mamma mia si è offerta ha risposto ha mandato una candidatura spontanea va bene così ed è stata accettata questa candidatura spontanea va bene così oh porca miseria per insegnare in questa specie di scuola collegio nel sud america e praticamente un giorno mentre finiva le sue belle vacanze prima di rientrare a insegnare ha trovato un pinguino immerso nel petrolio ce ne erano tanti in realtà tutti purtroppo morti però visto che questo ancora si muoveva era ancora vivo e ha provato a salvarlo ovviamente ci è riuscito perché altrimenti non ci sarebbe il libro e praticamente seguiamo le sue avventure con questo pinguino mentre cerca di pulirlo, di aiutarlo trova modi per portarlo poi diciamo alla scuola senza rischiare casini vari e tutto quello che ne consegue è una lettura che mi è piaciuta a tratti divertenti a tratti un po' triste ci sta nel senso è una storia vera quindi non puoi neanche dire è bella e brutta perché cioè quello è stato punto quindi non è che ci puoi fare tanto però è una lettura piacevole che ci sta diciamo che questo libro come ha detto già lei racconta una storia realmente accaduta quindi come tutte le storie vere ci sono elementi allegri elementi meno allegri e quello che mi è piaciuto è innanzitutto l'ambientazione perché è ambientata in Argentina negli anni siamo negli anni primi anni 70 quindi un periodo molto difficile per la situazione dello stato sudamericano proprio perché era appena arrivato il potere Videla quindi era l'epoca dei desaparecidos e quindi questo professore si viene a trovare a insegnare in una scuola che è un po' una specie di isola felice in mezzo a questa situazione che sta all'esterno la corruzione che c'è in quello stato la vediamo già dal momento in cui porta il pinguino in Argentina alla dogana tentano già di estorcergli dei denari per far passare il pinguino nel senso minacce e così del genere comunque lui come mi ha detto prima porta il pinguino alla scuola ed è la storia di un'amicizia perché in realtà il pinguino è un personaggio io non saprei identificare un pinguino dal punto di vista comportamentale però ti posso guardare te perché noi siamo lì nel senso che non avrei mai creduto che un pinguino potesse diventare simile a un cagnolino perché questo pinguino era sicuramente affezionato al professore tanto da seguirlo ovunque poi dove andava lui gli andava dietro si si appisolava i suoi piedi come se fosse praticamente un animale domestico faccio un po' di spoiler purtroppo non c'è il lieto fine perché fosse stata una fiaba sarebbe finita in maniera perfetta il finale non è per niente positivo però cosa succede? succede che questo professore passati tanti anni perché è narrato in prima persona da lui cosa fa? decide per fare un regalo alla sua famiglia di scrivere un libro con questo racconto di questa vicenda che gli è accaduta 40 anni prima quando era un baldo giovinotto e lo scrive e diventa un caso editoriale proprio perché la cosa che mi ha colpito è proprio la delicatezza di questa vicenda perché lui non è che tenta di fare di fare le cose diciamo in maniera fiabesca racconta la realtà il pinguino è un personaggio di per sé simpaticissimo che crea dal punto di vista del pubblico simpatia e affetto tutto quello che c'è e anche i ragazzi del collegio in cui insegna il professore entreranno in contatto il pinguino diventeranno stai ingerendo con lui un rapporto particolare lo stesso personale del collegio la donna di servizio tutti il problema è che la cosa bella è che viene raccontata una storia è chiaro che purtroppo non tutta non tutta la storia scorre alla stessa maniera ci sono dei momenti un po' di stanca in cui lui si dilunga con delle vicende che poco hanno che fare col pinguino anche perché se no l'impero sarebbe venuto molto ristretto oltre alla vicenda del pinguino ha raccontato anche la sua vicenda di professore giovane trasportato in Argentina vivendo in uno stato in cui c'è un'inflazione pazzesca in cui c'è una crisi economica notevole in cui c'è una giunta militare proprio in quegli anni lì per dire non so se avete mai visto il film Missing scomparso o se avete letto i libri di quello di operazione massacro di Rodolfo Walsh che è stata una delle vite e comunque la situazione è tragica comunque l'uomo e il pinguino una storia di amicizia in un momento storico difficile un paese complicato e però diventeranno per qualche breve tempo sostegno uno dell'altro aggiungi ancora qualcosa? sì che questo è un altro di quegli acquisti molto intelligenti di Joe che lui ha comprato questo libro quando ci siamo incontrati una delle nostre prime uscite nel allora era il giorno del primo book pride che siamo andati insieme marzo 2016 o marzo aprile perché ha comprato questo libro perché dovete sapere che lui quando corre cioè quando cammina molto di fretta sculetta in una maniera assurda ma non è vero ma tu mi mi rovini la fama non la fama di sicuro e sembra un po' un paperotto un pinguino tutto così e quindi abbiamo iniziato a chiamarlo pinguino perché insomma era doveroso e quindi lui ha voluto comprare questo libro perché c'è il pinguino nel titolo e soprattutto c'è il pinguino in copertina cioè senza manco leggere la trama però poi alla fine ero lasciato per anni sono quei libri che sono quei libri che arrivo io e li senti o lo leggiamo insieme o non lo leggerei mai quindi muoviti sì è un po' come Cercando Alaska che sono libri che non orientano nella mia comfort zone però alla fine assieme l'abbiamo letta mi è pure piaciuto a differenza di per dire di altri libri che abbiamo letto assieme assieme tipo Cercando Alaska non è che mi abbia cominto molto questo invece è molto carino divertente chiaro che se io fossi un professore di una scuola con dei ragazzi di 13-14 anni glielo darei da leggere per le vacanze perché è molto istruttivo racconta un libro con degli ottimi valori umani e non è per niente millifluo non è per niente diciamo non c'è quell'eccesso di come dire di dolcezza che fa non indora la pillola cioè ti dice quello che è racconta e uno si appassiona alle vicende di questi personaggi in maniera davvero notevole piacere quindi niente fateci sapere se voi l'avete letto se vi abbiamo incuriositi se vi piacciono i pinguini questo pinguino non parla no non parla sono ricci parlano va bene fateci sapere è chiaro che questo è un libro se siete dei cultori dell'alta letteratura lasciate perdere solito una lettura distensiva molto carina leggiadra che scorre via rapidamente con dei buoni sentimenti valori umani rispetto degli animali della natura una narrazione fluida scorrevole e questo è il libro che fa per voi ciao a tutti alla prossima